Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red Come vedete siamo con Cast of Crashers e questa volta come avevo detto nel scorso video Ci sarebbe stato un aiuto per completare questa missione visto che ho trovato difficoltà E qui con me c'è il signor Elvis Salve a tutti ragazzi Ci troviamo qui in un nuovo video di The Oran Red Eh si sta, però andiamo a giocare infatti Bene, ma perché io premo sempre qua? Vado con di... Vai, dobbiamo fare questa missione Andiamo Vai, vai 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 Tu c'hai l'uccello strato Allora, no c'hai l'uccellino magico, questo qua, aspetta, non mi ricordo che fa Non ci giochi mai No, non è che non ci giochi mai, è che... Aspetta, devo regolare un po' Aspetta Bene ragazzi, modificate un po' l'audio, sennò la voce di Elvis non si sarebbe mai sentita Ok, andiamo avanti Ok, vado, sei un coglione Continuo però Imperterrito Allora, questo non è un aiuto, questo ad esempio è perdere prima del da solo Non è vero, sopporto Aspetta, mi ricordo le mostre come si usano Eccole, eccole Ok, questo faccio così Ok, 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 perché... Ah, ecco, dicevi Ma... Da un po' di soldi che sono povero Aspetta, come si fa lo scudo? Ok, così Ole, ammazzate Sangue Ah, ragazzi abbiamo saputo che... Che tanto tempo fa, c'era una volta Una capra No, che ho fatto? Ho preso le pozioni, porco... No, che cazzo fai? E dammi una mano però Dai, vale No, senti Io ho sbagliato Ah, sono sbagliato però io Devo prendere le pozioni perché non ho vita Andiamo Andiamo, andiamo, andiamo Allora, stiamo spiegando cosa è cazzo Vai, vai Ma spiegando di trasformare Mi trasformavo io che tu ce la so Ti panico Ah, vabbè, ci stanno altri panico Li spawnano le sti cose Andiamo Ok Ah, ah Andiamo Vieni con me Ma andiamo avanti Vieni con il battere Ah, 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 ah Ma contro il capo dovevamo battere Con, ah, ah, a bestia, no? Ma so come si ammazza, è ben ben diverso Come non so come si ammazza Ah, il drago è giusto Eh Ah, è quello che mi sono bloccato So, le rievo scelte Mi sono bloccato, è qua E infatti da tanto non ci gioco più perché Non so, è brutissimo È bruttissimo È bruttissimo sta volta Ragazzi, si uccide Oh, uccide questa versione è morta E' mandandolo da me che c'è A lui danno le uova O si scorreggia meglio Ah, fate male Fuoco, fuoco Fuoco, fuoco Fuoco, 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 fuoco di cacca Ok, ti vero, è 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 vero La tengo Eh, rompi e si escono Aspetta Ma usci di merda No, non lo so Che usate? È la pozione Eh dai, mi avete bella energia Eh no, i soldi, non me ne foste Ma ce l'hai, mo' fuori vita Perché ti c'è questa pozione Ah, ok Ah, ci vedo la pozione, ma annaccia Come si cambia, lo posso mettere anche io l'acqua, ok Questo è il boss, no? No, no, questo semplicemente ci vuole rallentare Dai Ah, però sono fighi questi boss Ah, però sono deboli Sì, adesso schierate Po, po, po 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 Allora, ragazzi Stavo pensando Che ne pensate di fare una specie di Challenge Ma quale Ma dimmi quale scheletro lancia le... come frecce le sue ore Vale, aspetta, aspetta Possiamo fare una challenge? Allora, facciamo No Una tipo di sfida Io e Valerio Contro No Vabbè, vediamo Chi vince più round No Chi vince più round Avil No Dai, una tipo di sfida su Crusher Questa è stata scelta No 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 Stai morendo Non usare la passione perchè muoesce la bistecchetta da me Sì È da memoria Eh, è il tipo lo fatto cento volte No 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 Di qua Ok 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 Ecco sarà Come si apre Ah Andi Andi Second'uno Hadi god Date Vai Massacriamoli Vai 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 E DÈ Io sto morendo parallele Sempre Si Non sii quanti tagli devo fare? Tipo cento Allora Massacriamo Il tizio con Dai che ci riusciamo Però ragazzi questo sarebbe un'opINA coordinate Perché comunque volevo solo completare sto boss E poi riprendiamo la serie finalmente Questo è un aiuto Aspetta aspetta Annaggia madonna Ma mica non ti funziona Ma questo è il boss No 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 devi trasformarti Ah ok non faccio niente Eh Ma presto prima che mi scadano Vabbè facciamo a tempo Appena ti sta per scadere Faccio io Ok Olè Trasformati Sì Ma che fa perché ti sei allontanato O questo ci spara un bombeando Ok No mori 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 Mamma mia unciso il boss Oh vanina mia vanina tua Eh vedi ma te lo spawn Sto amato là dietro Ma che sto bruciando il culo Vieni qua Andiamo Vedi ci sono dovate che ci prendiamo uno a te Eh si fa scendere Eccolo dai Si fa scendere così Devo fare la statua Muoviti Sono pigro La pigrizia Che hai fatto tu? Ah no Io lo so Poca vita io Ok Ah recullato Andiamo 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 Questo è il boss che non riesco a fare Questo è il boss che non si riesce a uccidere Ti giusto non farò più la serie di questo gioco se non lo uccidiamo adesso Sei pronto? Si vai Ma no lo so Qua forse si deve No No devi uccidere quello là Da sopra Capi? No non ho capito Oh 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 Guarda come stai facendo io Capito come? Hai dovuto spommare in panino Eh si ti conviene Ma non andare laggiù E devi fare tipo così Così salti sempre Ah è fuoco 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 Tu bravo a distraia quello così io Sì ma è un po' sommatire per te Sì ma è il mio uccello non fa cazzo Vai 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 Valeria vai No Dove sei? Trattini quello Quasi non mi lancio le pietre Non mi fa da Dai che ce la faccio Dai Il mio uccello non fa cazzo L'ho ucciso L'ho ucciso Il mio uccello non fa un cazzo Il mio uccello Ci siamo riusciti ragazzi Ci siamo riusciti Sì ma è il mio uccello non fa un cazzo Perché? Ma che cazzo è il mio combatter Non so tu cosa faccio Il mio no Ma tipo c'era il mouse davanti al gioco Spero che non si è sminchiato il vino Lo scoggiuto Allora Abbiamo preso l'oggetto che servirà Cosa succede ora? Cosa stanno facendo? E' l'avanzo accinata No questo è ancora vivo Ancora vivo questo Davvero facciamo? Ah no Che bello Che bello Come è finito bello Che cazzo è? Comprovo Prendiamo la roba Sì Sì ma come avevo detto Questo episodio veniva tipo mini Quindi dobbiamo fermare Dio io ti odio Ma tu sei intelligente Come un testicolo Aspetta Allora Io già mi refullo le cose Così la prossima volta So che già ho la roba Comprata Ma comunque ragazzi No E' un'intelligenza artificiale Che siamo Allora ragazzi Comunque stavo dicendo Ci fermiamo qui So che l'episodio Sarà un po' cortino Però comunque Volevo farvi vedere Come veniva sconfitto Sto boss Finalmente E avevo capito Ora come cavolo Si sconfigeva Porco Giuda Se lo facevo prima Se si faceva così Ah capito Io da cavia E lui Tu devi mantenere un attimo A quello che non lanciavo le piedi E io lo ammazzavo Comunque ragazzi Ci vediamo nel prossimo episodio Vedremo se Far ritornare in questa serie Albi se continuare insieme Se no ragazzi La continuerò da solo Come sempre Ci vediamo la prossima volta Ragazzi Ciao a tutti Ciao Ciao